Lei ha Patrick e Sergio di mostrarsi e a Patrick di iniziare già a condividere le slide. Intanto vi do il benvenuto, lascio la parola a Sergio che vi racconterà un momentino chi è Pug Catania e che è un po' di storia. Ciao a tutti, mi presento, sono Sergio Sigari, mi occupo di sviluppo prevalentemente PHP e prevalentemente back-end e sono uno degli organizzatori del Pug Catania. Pug Catania che è stato riattivato nel 2019 a fine anno, siamo riusciti a fare il primo meetup a dicembre dopo qualche anno di inattività, anche perché era veramente un peccato per una città come Catania aver perso questa community. Ci incontriamo una volta al mese, siamo arrivati al nostro quinto meetup ad aprile, siamo sopravvissuti anche al coronavirus, anzi ci ha dato l'opportunità di spostare l'organizzazione dei nostri eventi online. Questo ci ha dato modo di allargare la nostra platea di pubblico, anzi proprio l'ultimo di aprile l'abbiamo organizzato con i ragazzi del Pug Milano, che saluto, e proprio per chiudere il cerchio con uno dei fondatori del Pug Catania della Primora, che era Stefano Torresi. E niente, quindi siamo riusciti a ridare voce a questa community. Il talk che portiamo oggi come Pug Catania è un talk di Patrick Fazzi, che anche lui sviluppatore PHP, prevalentemente back-end, che ho avuto la fortuna di avere come collega fino a poco tempo fa. e Patrick ci parlerà di tutte quelle sigle strane, TDD, BDD e PHP, e di sviluppo guidato dai test con PHP Spec. Prima di lasciare la parola a lui, vi do giusto, vi ripeto, le informazioni di servizio, il Q&A, che si svolge su Slido. Sicuramente già hanno incollato il link in chat sul canale PHP Day di Slack. Comunque ora lo ripeteremo di certo. Quindi fate le vostre domande durante il talk lì, alla fine le raccoglieremo per porle a Patrick, e lui sicuramente ci risponderà. Potete anche, sempre su Slido, se vedete che la domanda che avete fatto e che volete fare è già presente, potete usare il meccanismo dell'AppWalk, quindi evitare di riscriverla. Niente, vi ricordo che l'evento è registrato, quindi se dovesse avere la webcam attiva e non volete farvi riprendere, disattivatela. Credo di non aver dimenticato nulla, quindi lascio la parola a Patrick e noi ci risentiamo per le domande alla fine. Grazie. Grazie Sergio. Riuscite a vedere le slide? Sì, a posto. Ok, io sono Patrick, appunto assieme a Sergio e ad altri amici mi occupo di organizzare e coordinare le varie attività ed eventi del Pug Catania e oggi vorrei parlarvi un po' di sviluppo test driven, guidato dai test. Vorrei parlarvi un po' di quello che, della teoria che sta dietro a questa pratica e soprattutto mostrarvi uno strumento probabilmente meno popolare rispetto al più diffuso PHP Unit che è per l'appunto PHP Spec per implementare questa pratica nella nostra quotidianità. Prima però di tuffarci nello sviluppo guidato dai test vorrei partire dal perché come sviluppatori dovremmo avere nella nostra cassetta degli attrezzi almeno uno strumento di testing automatico. La ragione è fondamentalmente che il nostro è un lavoro talvolta difficile. Se non stiamo attenti nello sviluppare le nostre applicazioni una piccola applicazione che è partita bene con le migliori intenzioni nel corso del tempo potrebbe evolversi e prendere una brutta piega e diventare quello che generalmente chiamiamo il codice legacy ovvero quel codice che contiene tutta una serie di antipattern un alto livello di accoppiamento tra i vari moduli e componenti mancanza di documentazione tale per cui la gente e i primi noi ci pensiamo due volte a mettere le mani a portare avanti soprattutto quando quel progetto ha necessità di ulteriori sviluppi e quindi di funzionalità aggiuntive e quando ci capita la situazione è alquanto sgradevole. Ora non esiste una soluzione unica a questo problema in parte se ne è parlato anche nel panel precedente ci sono diverse metodologie che possono aiutarci nel corso del tempo a portare avanti lo sviluppo in maniera tale da non raggiungere questo livello di entropia e probabilmente una di queste pratiche una di queste linee guida è proprio lo sviluppo guidato dai test o il test driven development è una pratica essenzialmente semplice che ci richiede di scrivere i test prima di scrivere il codice di produzione i sacri test di test driven development generalmente riassumono il flusso di lavoro di uno sviluppatore che sviluppa in questa modalità attraverso lo schema red green refactor ovvero scrivi un test piccolo verifica che esso fallisca ovvero tieni il lampeggiante rosso nel tuo terminale poi scrivi il codice nella maniera più semplice possibile in questa fase puoi anche scrivere del codice non di qualità perché no l'importante è ottenere il verde ovvero la funzionalità implementata una volta che la funzionalità è implementata il tuo codice funziona fai del refactoring quindi elimina le duplicazioni ottimizza il codice rendilo più leggibile una pratica fondamentalmente molto semplice al punto che la teoria che dovremmo conoscere è tutta qui in questo slide ma i benefici che questa pratica può portare nel corso del tempo sono notevoli infatti sviluppare in questa modalità ci aiuta a scrivere del codice più pulito è meglio progettato perché ci impone di fare un esercizio di progettazione quando stiamo scrivendo il codice ovvero il fatto di dover scrivere prima il test e poi il codice ci impone di pensare all'interfaccia esterna delle nostre classi e quindi ci impone di fare un minimo di design di progettazione del nostro codice inoltre il codice che ne risulterà sarà più facile e meno difficile da manutenere perché diversi antipattern diverse cose che nel corso del tempo creano problemi al codice se sviluppiamo in modalità test driven non possiamo farle by design ci sono certi antipattern che non possiamo proprio applicare quindi già diciamo siamo protetti dal modo in cui scriviamo il nostro codice avremo anche meno bug nella nostra applicazione ovviamente almeno si spera e soprattutto avremo una serie di test di regressione che ci aiuteranno nel corso del tempo a aggiungere ed evolvere la nostra applicazione senza quel padema d'animo di chiederci se quella nuova funzionalità che stiamo introducendo va a rompere lo status quo quindi le funzionalità che già sono presenti all'interno della nostra applicazione è chiaro che scrivere i test in questo modo non risolve tutti i problemi non ci garantisce il fatto che il nostro codice sia privo di bug o che la nostra applicazione non abbia bug ma è una pratica che ci aiuta a mitigare tutti i problemi che abbiamo visto prima quindi se applicato dovutamente nel giusto contesto ci può aiutare a rilasciare meno codice rotto in produzione i benefici sono talmente tanti che nel corso del tempo tante persone si sono interessate al test driven development e hanno scritto tanto tant'è che questa pratica nel corso del tempo si è evoluta perché è vero che noi vogliamo scrivere il codice bene e il test driven development ci aiuta a scrivere il codice bene ma soprattutto vogliamo scrivere il giusto codice ovvero il codice che va incontro alle esigenze degli utenti perché se noi scriviamo del codice che semplicemente funziona ma che poi non soddisfa i nostri utenti questo codice perde il suo valore perché nessuno lo usa o chi lo usa magari è scontento e quindi abbiamo fatto un buco nell'acqua da questo presupposto nel corso del tempo sono nate tutta una serie di pratiche tutta una serie di strumenti che oggi vengono racchiusi sotto il nome di behavior driven development che appunto ci aiutano come sviluppatori a focalizzare la nostra attenzione non solo sulla qualità di quello che facciamo ma anche sul fare le cose giuste quindi come dicevo prima il BDD o behavior driven development da una semplice versione migliorata del test driven development nel corso del tempo ha finito per essere un contenitore un cappello per tutta una serie di pratiche di ingegneria del software che aiutano i team di sviluppo a rilasciare del codice dei prodotti di maggiore qualità di maggiore valore e a farlo più velocemente uno degli obiettivi principali del behavior driven development è facilitare la comunicazione tra i team di sviluppo e gli stakeholders perché? perché la comunicazione è un aspetto fondamentale nel nostro lavoro ogni giorno ci troviamo a comunicare con i nostri colleghi tecnici programmatori come noi e quindi prendere decisioni sull'architettura o sul modo in cui strutturare il nostro codice ma ci troviamo anche a comunicare con i cosiddetti esperti di business ovvero le persone i nostri utenti i nostri clienti le persone che conoscono bene il dominio nel quale il software viene utilizzato e a differenza loro non conosciamo il dominio e loro conoscono bene la terminologia le procedure oppure tutto quanto noi soprattutto nella fase iniziale di un progetto dobbiamo apprendere il dominio dobbiamo imparare a conoscere tutti i vari aspetti che caratterizzano quel dominio e farlo farlo bene è fondamentale per ridurre i tempi necessari a rilasciare prodotti veramente di valore e in questo senso il behavior driven development attraverso una serie di strumenti e pratiche ci aiuta a raggiungere questo obiettivo ma la comunicazione è importante anche tra sviluppatori perché un progetto generalmente non è portato avanti solo da una persona generalmente si è in team ci sono più sviluppatori che lavorano sulla stessa roba e nel corso del tempo questi sviluppatori potrebbero avvicendarsi perché magari qualcuno esce dal team qualcuno entra e quindi è necessario anche ottimizzare la comunicazione tra gli sviluppatori al fine di non far perdere informazioni e agevolare chi entra chi subentra in un progetto nell'apprendere le nozioni relative a quel progetto e a quel dominio in questo slide trovate alcuni tool e pratiche che appunto hanno l'obiettivo di raggiungere una migliore comunicazione ma quello di cui vorrei parlarvi oggi è l'ultimo lo spec BDD spec BDD non è altro che è il solito test driven development quindi ciclo red green refactor però più orientato verso la comunicazione quindi si differenzia dal classico test driven development semplicemente per il linguaggio utilizzato e per la finalità se nel test driven development la finalità è testare che il nostro codice funziona nello spec BDD vogliamo anche descrivere in che modo il nostro codice si comporta e quindi descrivere proprio a livello di classe quindi a livello più basso della nostra applicazione il comportamento dei vari componenti nell'ecosistema PHP troviamo un ottimo tool per fare spec BDD che è appunto PHP spec un tool come si legge nella documentazione si propone di aiutarci a progettare il nostro codice i nostri componenti lasciandoci guidare dalle specifiche e vorrei adesso passare dalla teoria alla pratica sporcarci le mani assieme e vedere quali sono le potenzialità di questo strumento e per farlo vorrei risolvere un kata piuttosto semplice il fits.buzz.cata in una versione semplificata che consiste nel convertire dei numeri da intero a stringa secondo queste tre semplici regole se il numero è un multiplo di tre stampiamo fits se è un multiplo di cinque buzz se è un multiplo di entrambi fits.buzz quindi passiamo delle slide al codice e iniziamo a sviluppare la soluzione a questo problema la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è installare il tool per farlo basta fare il require attraverso composer il nome della libreria è appunto php spec una volta installata la libreria avremo a disposizione nella nostra command line un'interfaccia generalmente gli eseguibili nella configurazione di default si trovano all'interno della cartella vendor bin e nella fattispecie troveremo php spec i comandi che mette a disposizione il tool sono essenzialmente questi quattro tralasciando help e list che stanno lì a scopo di documentazione quelli che ci tornano utili per sviluppare sono describe e run il primo describe ci permette di creare una specifica per una classe in php spec fondamentalmente ogni classe ha la sua specifica che non solo ne testa il funzionamento ma ne descrive il comportamento e vedremo come quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è appunto eseguire il comando describe seguito dal nome della classe per la quale vogliamo creare la nostra specifica in questo caso la classe kata fits buzz una volta eseguito il comando troveremo all'interno del nostro progetto all'interno della cartella spec la nostra specifica per chi ha già familiarità con altri tool di testing tipo phpunit la cartella spec fondamentalmente è l'equivalente della cartella test di phpunit quindi al suo interno troveremo tutte le specifiche relative alle classi che stanno in src in cosa consiste una specifica è fondamentalmente una normale classe php che però estende la classe object behavior di php spec una classe che ci fornisce tutta una serie di metodi che fanno da proxy nei confronti della classe sotto test quindi vedremo come i metodi offerti dalla classe object behavior ci permettono di descrivere e testare il comportamento della classe sotto test che in questo caso sarà la classe fit all'interno di una specifica troveremo generalmente una serie di metodi che nella terminologia di php spec vengono chiamati esempi proprio perché ogni metodo di test è un esempio fondamentalmente di come la classe dimostra un certo comportamento all'esterno e il primo comportamento che una classe generalmente ha è quello di essere istanziabile questo è un po' in linea con l'approccio incrementale piccoli passi il primo passo è quello di creare la classe e renderla istanziabile e per questo il framework crea per noi l'esempio it is initializable che si traduce in una chiamata al metodo should have type fits buzz notate come i metodi che metto a disposizione la classe object behavior sono molto diciamo fluenti nei nomi cioè ci permettono di scrivere del codice php che letto a voce alta quasi ci ricorda l'inglese qua se lo leggiamo a voce alta diciamo this should have type fits buzz praticamente quasi plain english noteremo come anche gli altri metodi ci consentono di scrivere dei test che sono altamente leggibili ed esplicativi quindi una volta che abbiamo il nostro test possiamo andare nel terminale ed eseguirlo attraverso il comando run a questo punto il tool ci dice che non abbiamo passato il test perché la classe non esiste ma notate come il tool si propone anche di essere non solo uno strumento di testing ma anche di design ci chiede se vogliamo delegare a lui la creazione della classe e quindi diamogli yes e abbiamo superato il nostro primo test perché per l'appunto il tool ha creato per noi all'interno del namespace opportuno la classe fitsbuzz classe vuota andiamo quindi a implementare il secondo esempio della nostra specifica che descrive il primo vero comportamento ovvero che la classe deve avere un metodo che converte i numeri moltipli di 3 in fits quindi andiamo a scrivere questo metodo hit per turns fits for multiples of 3 una cosa che vorrei farvi notare è che i nomi dei metodi esempio nelle specifiche di phpspec devono seguire due convenzioni la prima è che devono iniziare per hit o per its questo perché devono essere dei nomi che descrivono la classe sotto test quindi usano la terza persona la seconda convenzione è che devono essere scritti in snake case questa è una scelta che ci impone lo strumento perché sembra almeno per me questa cosa risulta vera per altri forse no sembra che scrivere in snake case sia più leggibile rispetto al più comune camel case quindi usciamo fuori dagli standard della psr ma al fine di rendere i nostri metodi un po' più leggibili anche perché generalmente si utilizzano nomi molto lunghi per descrivere i comportamenti questo esempio si traduce quindi nel tire che quando chiamiamo il metodo convert della classe sotto test quindi della classe fitzbuzz passando un multiplo di 3 che potrebbe essere 3x7 ad esempio allora la classe sotto test deve restituire should 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 return fits il metodo should return che ho invocato a seguito alla chiamata a disconvert viene chiamato matcher ci sono veramente tanti matchers messi a disposizione da php spec li potete vedere tra i suggerimenti di php storm se utilizzate questo editor e permettono di fare una serie di asserzioni sull'output dei metodi invocati che vanno dal tipo restituito al valore esatto al valore contenuto all'interno di un array eccetera eccetera quello che ci interessa è che non abbiamo creato un'istanza della classe fitzbuzz ma stiamo chiamando il metodo convert all'interno della specifica con questa sintassi questo perché php spec come tutti i tool orientati allo spec bdd vogliono togliere dai test tutto il boilerplate necessario per iniziarli quindi in questo caso l'istanziazione della classe sotto test viene fatta per noi diciamo under the hood dal tool in modo tale che noi scriviamo soltanto il test il codice di test necessario per verificare e per descrivere il comportamento quindi una volta che abbiamo questo test possiamo eseguirlo nel terminale con il solito comando e ancora una volta otteniamo un errore ancora una volta però il framework o il tool ci viene incontro chiedendoci se vogliamo delegare a lui la creazione del metodo convert anche in questo caso sfruttiamo al massimo le potenzialità dello strumento ed ecco che all'interno del nostro file contenente la classe fits buds troviamo anche il nostro metodo ovviamente non c'è ancora business logic quindi otteniamo un errore ma vorrei farvi vedere una funzionalità che è il flag fake che ci permette di aggiungere un return statement al nostro metodo appena creato in modo tale che restituisca sempre la stringa fits esattamente questo in questo modo abbiamo superato il nostro test scrivendo la minor quantità di codice possibile talvolta può tornare utile in questo caso sfruttiamolo così che abbiamo già superato i nostri primi due test senza aver scritto ancora una sola riga di codice di produzione andiamo avanti e implementiamo il terzo comportamento ovvero per l'asse deve restituire buds per i moltipli di 5 5 questo si traduce fondamentalmente nell'asserire che passando multiplo di 5 che potrebbe essere 5 per 13 ad esempio allora la classe deve restituire buds torniamo nel terminale e seguiamo il nostro test otteniamo il rosso che ci autorizza a tornare nel codice di produzione e a scrivere il necessario per soddisfare questa condizione quindi a questo punto iniziamo a scrivere del vero codice di produzione ad esempio diciamo che argument1 mod5 deve essere uguale a 0 allora restituiamo buds eseguiamo il nostro test otteniamo la barra verde che ci autorizza a tornare nel codice di produzione e fare del refactoring il primo refactoring che farei è rinominare questa variabile le darei un nome più esplicativo number potremmo anche aggiungere il type int e il retro type fatti questi refactoring possiamo verificare che tutto continua a funzionare come prima rieseguendo la specifica e verificando che appunto abbiamo la nostra barra verde a questo punto torniamo nella specifica e implementiamo il nostro quarto comportamento ovvero la classe restituisce fits buds quando il numero è un multiplo di entrambi quindi fits buds for multiples of both 3 and 5 quindi un multiplo sicuramente di 3 e di 5 sarà 5 per 3 per 17 in questo caso ci aspettiamo fits buds eseguiamo il nostro test verifichiamo di avere il rosso torniamo nel codice di produzione e implementiamo anche questa funzionalità in questo caso possiamo semplicemente aggiungere una condizione prima di tutte che ci dice che se il numero è sia multiplo di 3 che di 5 allora restituiamo effettivamente fits buds rieseguiamo il nostro test abbiamo la nostra barra verde possiamo andare avanti ad implementare l'ultimo comportamento ovvero il comportamento di default che ci dice che se il numero non è né multiplo di 3 né multiplo di 5 allora dobbiamo semplicemente convertirlo a string e restituirlo quindi direi it returns the number otherwise che si traduce in passare un numero che non è nel multiplo di 3 nel multiplo di 5 direi che il 5 per 3 più 1 è un buon candidato che fa 16 ecco se passiamo 16 ci aspettiamo che ci venga restituito il valore 16 sotto forma di stringa eseguiamo il test abbiamo il rosso possiamo tornare nella nostra classe e implementare la condizione multiplo di 3 restituisci fits se il numero non soddisfa nessuna di queste condizioni allora semplicemente restituisci il numero eseguiamo la nostra specifica verifichiamo che è tutto a posto e così abbiamo implementato la nostra funzionalità possiamo fare del refactoring a questo punto ad esempio una cosa che generalmente faccio è quello di dichiarare gli strict type che è una modifica non banale perché andiamo a modificare il modo in cui vengono gestiti i casting dei tipi quindi generalmente è una modifica abbastanza pericolosa da fare ed effettivamente otteniamo un errore c'è un 20% dei test che è fallito ma possiamo andare a risolvere il problema perché sappiamo esattamente dove si verifica il problema si verifica nel caso otherwise quindi quando il numero non è multiplo di nessuno dei due ed effettivamente qua dobbiamo aggiungere un casting esplicito a stringa adesso ci aspettiamo che i test vengano superati ed effettivamente abbiamo superato i test potremmo reiterare questo processo fare ulteriori refactoring rendere il codice più bello più leggibile tutto quello che ci pare ma il punto è che ogni modifica che andremo a fare sarà sempre fatta tra virgoletta con leggero perché abbiamo una serie di test che ci garantiscono che il comportamento della nostra classe all'esterno rimane lo stesso e vorrei farvi notare anche il fatto che la specifica che abbiamo scritto non so se si legge abbastanza bene in realtà è molto leggibile perché tutto il boilerplate necessario ad asserire a distanziare la nostra classe a fare tanti giochetti ce lo siamo risparmiati la classe object behavior ci ha permesso di scrivere solo il codice necessario per dimostrare in che modo la classe kata fa la conversione dei numeri e di conseguenza i risultati un'altra cosa che vorrei farvi vedere sono i profit objects perché fin qui abbiamo visto una classe che fa dei calcoli fondamentalmente converte dei numeri in delle stringhe e lo fa da sola ma nel mondo reale sappiamo che le classi tra di loro parlano comunicano si scambiano informazioni concorrono nell'espletare determinate funzionalità e quindi è necessario nei nostri test di tenerne conto e testare anche in che modo la classe sottotest interagisce con altre classi queste classi le classi che interagiscono con la nostra classe sottotest vengono generalmente chiamate in letteratura collaborators o collaboratori e nei test unitari come quello che abbiamo scritto e come quelli che ci permette di scrivere php spec questi oggetti possono essere moccati non è necessario farlo per forza però generalmente vengono moccati php spec offre un'ottima integrazione con una libreria che si chiama prophecy che serve appunto per creare dei mock objects ovvero degli oggetti finti che implementano la stessa interfaccia di quelli reali ma che al posto di avere lo stesso comportamento semplicemente non fanno nulla possiamo definire noi il loro comportamento oppure semplicemente fare delle asserzioni sul modo in cui la nostra classe interagisce con esse ad esempio in questo caso ho voluto complicare un po' il nostro esempio e introdurre un logger che logga tutti i numeri che vengono convertiti nelle righe dalla 3 alla 6 ho implementato il metodo let che per chi viene da phpunit è fondamentalmente l'equivalente del metodo setup è un metodo speciale della classe object behavior che viene eseguito sempre prima di ogni esempio quindi abbiamo implementato 4 esempi prima di ognuno di essi viene eseguito il metodo let e serve proprio per inizializzare la classe sotto test in questo caso abbiamo specificato che la classe sotto test deve essere costruita passando il logger come costruttore e notate che il logger non lo stiamo inizializzando noi non lo stiamo creando noi lo abbiamo definito come parametro in input del metodo let questo perché la classe object behavior attraverso la reflection legge tutti i parametri presenti nel metodo let crea dei mock per ognuno per ognuno di essi e ce li inietta runtime quindi ci risparmiamo pure tutto il codice necessario a moccare le dipendenze e attraverso il metodo beconstructed with possiamo iniettarli attraverso il costruttore nella nostra classe sotto test ancora una volta vedete come il codice è abbastanza eloquente let this beconstructed with è praticamente inglese poi nelle righe dalla 8 alla 13 ho creato un nuovo esempio dove ho passato come argomento il logger e anche anche qui la classe object behavior inietterà lo stesso logger che abbiamo dichiarato nel metodo let ho richiamato semplicemente il metodo convert senza fare nessuna asserzione sul risultato perché abbiamo già descritto e verificato il suo comportamento ma questa volta ho fatto un'asserzione sul modo in cui la classe fitsbuzz interagisce con logger ho detto che il metodo log con il parametro 85 deve essere stato chiamato almeno una volta in questo modo eseguendo questo test posso verificare se la mia classe fitsbuzz interagisce correttamente con la classe logger ci sono altre funzionalità che non abbiamo avuto modo di vedere è uno strumento abbastanza potente e flessibile tutte queste funzionalità chiaramente le trovate ben documentate all'interno della documentazione ufficiale che trovate sul repo github e sul sito web dello strumento per quello che mi riguarda quando ho iniziato ad utilizzare questo strumento ma in generale quando ho iniziato a sviluppare in questa modalità mi sono reso conto di compiere tanti errori soprattutto all'inizio e questo perché la teoria è veramente semplice ma quello che veramente conta per essere efficace nell'applicare questa pratica è la pratica bisogna testare ritestare sbagliare imparare dei propri errori e andare avanti perché mi è sempre piaciuta questa frase che dice che un esperto non è una persona che non sbaglia ma è una persona che ha fatto tutti i possibili sbagli in uno specifico campo quindi se siamo all'inizio col test driven development abbiamo la percezione di sbagliare nello scrivere i test nello scrivere il codice non lasciamoci scoraggiare continuate o quello che posso dirvi continuate perché soltanto in questo modo potrete o potremo perché anche io ancora sto imparando potremo imparare a padroneggiare bene questa pratica di sviluppo vi ringrazio per la vostra attenzione e qua nell'ultimo slide vi ho messo anche il link a un mio rep o GitHub dove trovate gli esempi di codice di cui abbiamo parlato oggi trovate anche i riferimenti al Pug Catania per cui se vi fa piacere rimanere in contatto con noi comunque essere aggiornati sulle varie iniziative ed eventi che organizziamo potete farlo aggiungendoci su questi canali e se vi è piaciuto il talk o anche se non vi è piaciuto anzi a maggior ragione vi invito a lasciarmi un feedback sul join in grazie ancora grazie Patrick mi sentite? si ok quindi passo a farti le domande che sono arrivate allora la prima si può fare spec BDD con PHP Unit? diciamo di sì perché fondamentalmente spec BDD è una pratica non è uno strumento quindi fondamentalmente puoi fare spec BDD sia con PHP Unit che con PHP Spec il vantaggio di fare spec BDD con PHP Spec è che questo tool è stato pensato proprio con quell'intenzione quindi tutto il linguaggio che ti mette a disposizione gli strumenti che ti mette a disposizione sono pensati per scrivere del codice quando più descrittivo ed esplicativo possibile chiaramente si può fare la stessa cosa anche in PHP Unit scrivendo dei test più orientati alla descrizione meno assertivi chiaramente c'è da considerare che il risultato non sarà lo stesso però ad esempio a me capita di lavorare su più progetti in alcuni ho la fortuna di poter utilizzare PHP Spec in questa modalità e ne sono contento in altri per esempio chi prima di me ha scelto di utilizzare PHP Unit allora in quel caso mi adatto e scrivo magari dei test in PHP Unit che ricalcano un po' la filosofia che sta dietro allo Spec VDD ovvero descrivere bene il comportamento dei componenti ok chiaro poi quest'altra di Mirko quando fai le asserzioni o le predizioni fai solo lo stretto necessario per far fallire il test oppure ne aggiungi qualcuno in più a modo di documentazione allora diciamo che una delle leggi in realtà non mi piace parlare di leggi delle linee guida relative al testing che ha sintetizzato in un suo articolo Uncle Bob è di non scrivere più codice di test necessario a far fallire il test quindi il codice di test dovrebbe essere sempre finalizzato a descrivere e verificare che un comportamento viene implementato dalla classe per cui non so effettivamente il caso d'uso che ha in mente Mirko nel fare la domanda ma in generale non scriverai mai più test di quelli che ti servono per descrivere e testare il comportamento della classe ok altra domanda quale sarebbe la best practice per testare accessi al DB gli accessi al DB in generale non possono essere testati in maniera unitaria perché i test unitari presuppongono il totale isolamento della classe sotto test da tutto ciò che sta attorno quindi un tool come PHP spec è molto utile per descrivere ad esempio oggetti di dominio ma non va bene se vuoi fare un test di integrazione ad esempio tra un tuo servizio un repository un data mapper con il database in quel caso quello che puoi fare è per esempio implementare un test di integrazione con un tool più specifico ad esempio anche PHP unit permette di scrivere dei test di integrazione abbastanza facilmente se hai per esempio sotto Symfony puoi farlo tranquillamente con l'estensione di Symfony in quel caso puoi appunto creare un test di integrazione che presuppone che la tua classe interagisce col mondo esterno senza mock e verificare che il comportamento della tua classe effettivamente con sotto il database è quello che ti aspetti però quello non è più un test unitario quindi PHP spec non ti aiuta più ok chiarissimo allora c'è questa domanda di Stefano che dice com'è il TDD in progetti complessi questa è la domanda sembra difficile da gestire ma allora dipende in progetti complessi secondo me anzi esprime la sua massima potenza perché in un progetto complesso generalmente non lavora solo una persona ma lavorano più persone e quindi il fatto di avere una serie di test che ti descrivono i vari componenti e ti permettono di aggiungere nuove funzionalità con la consapevolezza che quello che esisteva prima continua a funzionare ti aiuta come hai potuto vedere ad esempio nella presentazione PHP spec è un tool a zero configurazione cioè tu lo installi e puoi utilizzarlo sin da subito quindi puoi introdurlo in un progetto senza particolari costi devi semplicemente installare la libreria e iniziare a scrivere il codice di test necessario per testare i nuovi componenti per cui penso che anzi soprattutto in progetti complessi non dovresti avere difficoltà a gestirlo poi magari se c'è qualche specifico problema fai pure un'altra domanda io se mi permetti aggiungerei che dipende da cosa si intende per progetto complesso perché se si intende progetto legacy con magari un certo livello di accoppiamento tra gli elementi tra le componenti del sistema allora sì che può essere definito progetto complesso difficile da testare ma lì non fai test driven lì a quel punto si tratta di fare refactoring quindi se devi fare refactoring su un componente già esistente probabilmente conviene che prima crei un test che testa crea una rete di sicurezza attorno a quel componente e poi lo inizia a modificare e diciamo che PHP spec in questo non ti aiuta perché è pensato per scrivere il test prima della classe in quel caso probabilmente un altro tool tipo phpunit potrebbe essere più utile però il codice che scrivi è nuovo si può usare PHP spec anche con client la risposta è no perché fondamentalmente PHP spec è pensato per test unitari che operano in isolamento quindi avere un client HTTP come Gazzle all'interno del test già va a violare questa prima condizione di base quindi se devi testare qualcosa che ha a che fare con l'HTTP probabilmente sarà un adapter nella tua applicazione in quel caso è più opportuno implementare un integration test e quindi per fare integration test come dicevo prima ci sono tool più specifici diciamo che PHP spec è un tool che ti fa fare solo unit test quindi test in isolamento totale e per quello è veramente ottimo tuttavia in un progetto reale non utilizzerai solo PHP spec ma aiuterai o meglio completerai le funzionalità di PHP spec con tutta un'altra serie di test di strumenti di testing ad esempio di recente ho lavorato su un progetto che è sotto a Silius che è una piattaforma open source per fare e-commerce è un progetto abbastanza grosso che ha tutta una serie di test unitari in PHP unit per descrivere le entità di dominio e i servizi di dominio in totale isolamento rispetto al database all'http eccetera eccetera poi ha tutta una serie di test di integrazione che testano gli adapter quindi i servizi che leggono e scrivono sul database o le varie chiamate http e servizi esterni e sono fatti in PHP unit con l'estensione di Symfony e un'altra suite di test di accettazione che sono scritti in Gherkin che è un linguaggio specifico per descrivere le caratteristiche dell'applicazione dal punto di vista degli utenti quindi del business e questi test vengono eseguiti attraverso un altro tool che si chiama BIAT quindi questo progetto addirittura utilizza tre diversi tool per testare l'applicazione da tre diverse angolazioni quindi per ogni tipologia di test poi vai a scegliere lo strumento più adatto questo è soltanto uno degli strumenti ah ok è arrivata un'altra anzi vabbè ti faccio prima questa che l'avevo saltata descrivere il comportamento sono i learning test o si tratta di un'altra cosa? sinceramente non so cosa sono i learning test però per descrivere il comportamento intendo proprio il vero significato della parola se c'hai una classe che si occupa di modellare il tuo conto in banca questo è il classico esempio da libro avrà un metodo che fa il prelievo un metodo che aggiunge del denaro al tuo conto queste due operazioni sono i comportamenti che ha la tua classe quindi attraverso i tool di testing come php unit php spec puoi non solo testare il comportamento ma anche descriverlo perché chi legge il tuo test dice ah questa classe permette di fare questo e quest'altro in questi modi ok allora cosa ne pensi della frase don't mock what you don't have ho sentito che è una regola che viene spesso seguita ma che ha i suoi pro e i suoi contro questa è una bella domanda che fondamentalmente per essere diciamo analizzata potrebbe richiederci un'altra mezz'ora però il succo è che che cos'è che noi owniamo che cos'è che noi possediamo possediamo quelle quelle classi quelle interfacce che abbiamo scritto noi o se vogliamo essere un po' più flessibili tutte quelle classi che hanno un'interfaccia tale per cui possiamo moccare il comportamento possiamo diciamo implementarlo in una versione finta sicuramente una una classe tipo doctrine repository non l'andrei a moccare perché talvolta l'interfaccia non non ti descrive bene in che modo quella classe si comporta un logger tipo psr psr non ricordo quale che ha un'interfaccia piuttosto banale non lo non lo possiedo io nel senso che lo trovo nella cartella vendor però mi sentirei abbastanza confidente nel moccarlo perché è un'interfaccia della quale tra rigolette mi fido quindi come sempre le regole non sono mai universali caso per caso ognuno ha la sua sensibilità e decide come adattarla al suo caso d'uso ok penso che ci arriviamo a fare le ultime due allora seguendo un flusso di sviluppo di DDD non si dovrebbe partire dai test più alti tipo end to end che flusso useresti per integrare PHP spec allora in questo caso ci sono c'è una considerazione che possiamo fare che viene proprio dalla letteratura del behavior driven development dove fondamentalmente il flusso di sviluppo è stato suddiviso a due step uno ad alto livello che è quello come tu l'hai definito end to end ovvero dalla prospettiva degli utenti e uno a basso livello che sono le classi quindi il codice nella sua parte più microscopica il flusso del behavior driven development in realtà come dici tu parte dall'alto livello quindi dallo scrivere dei test di accettazione test di alto livello sono anche scritti ad alto livello perché non so se hai mai sentito parlare del Gherkin è un linguaggio per descrivere le funzionalità che è fondamentalmente quasi simile all'inglese una volta che tu hai i tuoi test di accettazione e questi test falliscono quindi ottieni il rosso puoi passare all'implementazione microscopica quindi puoi iterare più passaggi di unit testing su più classi e poi ritornare al ciclo più grande quindi a scrivere nuovi test di integrazione per intenderci se devi implementare il login scriverai una feature in Gherkin dove descrivi il login dal punto di vista dell'utente una serie di metodi che traducono il Gherkin in specifica eseguibile quindi in operazioni che possono essere eseguite automaticamente dal tuo computer una volta che questi falliscono quindi hai il red passi a livello microscopico quindi inizi a implementare la classe user la classe authentication service il controller eccetera eccetera una volta che hai implementato tutte queste classi torni fuori al ciclo più grande e ottieni il verde anche nei tuoi test di accettazione a quel punto puoi fare del refactoring ad alto livello quindi puoi vedere questi due cicli come due cicli TDD uno anitato dentro l'altro ok Patrick grazie vabbè l'ultima domanda in realtà già ne abbiamo hai risposto è molto simile a una che è già stata fatta sulle asserzioni e predizioni perciò non te la faccio anche perché siamo arrivati proprio al limite fra un po' Michela ci chiama infatti ti ringrazio super chiaro e interessante il talk e niente io ringrazio tutti per per averci seguito è stato bello essere partecipare mi sentite? sì ok è stato bello partecipare come Pug Catania a questa edizione del PHP dei Pug Edition e niente vi saluto ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.